andiamo da blu venite da blu sono morto aspetta vieni da blu vai bandit dalla porta dalla porta di magazzino ok se oggi sono sbagliati no 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 visto solo l'immagine ah ok allora sei forte vieni da blu Mark dimmi che sei dietro di me no non è dietro di te però si dovrebbe prendere è bloccato in questo momento Mark è bloccato non capisce niente allora è fermo è 20 secondi che è fermo si sono scherzo scherzo rock minuto blu devi passare da garage devi buttarti nella botola e me ne vado lo so zitto no non sparare non sparare non dire che stella non dire questo e tu Mark provienzio vai entrata entrata scattino che in arsenal no in cappella no io rimasto vieni da cappella vieni la mia porta vai ma quello non mi faceva morire scopato Mark scopato no 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 eh eh ok ora scopato ok raga gestite me la bene dai vincete senza fare i down sono morto sono morto sono morto raga non picca calma mettetevi a incrocio eh glitch attento dal buco eh quanti ero ci sono qua sotto bravo ma bravo eh non più non erano oh deve morire oh chi no che è entrato oh un testo di cazzo oh a una ora è questo venti secondi che era fermo ah raga si sta schiaffeggiando si sta schiaffeggiando fermo 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 Grazie.